Aggiornamento di Sheldani del Per la Gerarchia Spirituale e la Federazione Galattica. 20 settembre 2011. Drazo. Torniamo. Il vostro mondo procede nella sua modalità di transizione. Osserviamo come i costrutti su cui si basano le vostre numerose società siano in procinto di collassare, le vostre strutture economiche e governative, così come i fondamenti dei vostri principi filosofici e morali, si trovano ora ad un punto critico. Le basi su cui si reggono le vostre società sono, o stanno arrivando alla fine di un lungo declino. Tuttavia, vediamo anche che sotto tutti i rottami, qualcosa di completamente nuovo e diverso sta per risorgere. State attivamente spostandovi verso i nuovi concetti, che stanno iniziando a rimpiazzare quelli ormai obsoleti. Al centro di questa radicale trasformazione si celano i programmi ambiziosi dei nostri alleati di Terra, che sono ormai pronti a manifestare un nuovo mondo, economico e politico, per tutte le vostre società globali. Siamo molto contenti che queste cose si stiano predisponendo su grande scala, ma noi desideriamo ardentemente che si proceda ad un ritmo molto più veloce. Abbiamo chiesto agli agartiani di fare pressione sui loro compagni umani della Terra, per accelerare il ritmo dei molti cambiamenti previsti per le società degli abitanti della superficie. In risposta, gli agartiani hanno deciso di chiedere l'intervento dei maestri ascesi, che hanno dato disposizione alle sacre società segrete del vostro mondo di farsi avanti per sostenere e portare a conclusione i molti accordi globali degli alleati della Terra. È veramente giunto il momento per introdurre i nuovi governi e un nuovo sistema economico. Queste azioni sono essenziali per consentirci, sotto il vessillo della divulgazione, di rivelare le nostre tecnologie, e noi stessi, a tutti voi. Il cielo ha stabilito una serie di decreti, dandoci il mandato per effettuare un pieno primo contatto con voi. Questo evento avrà bisogno della completa assistenza dei nostri alleati di Terra e soprattutto delle magnifiche energie dei vostri maestri ascesi. Gli oscuri stanno esitando, e la loro temibile stretta sul vostro mondo si sta ora allentando. Ciò che rimane sarà quella spinta finale con cui le forze della luce potranno spazzare via quel che resta degli oscuri. Atteniamo questa azione così determinante per il conseguente aumento della prosperità globale, che vi è stata promessa, e per i nuovi governi dedicati alla luce. Questa realtà nascente è il sostegno dei grandi decreti del cielo, e questo ci consente di fare quanto necessario per portarla a compimento. Tuttavia, come abbiamo sempre detto, resta molto da fare. Il vostro regno è gestito da una cabala molto potente, i cui membri hanno reperito denaro ovunque, e hanno controllato il potere. Le tipologie di questi oscuri vanno da quelli che desiderano incrementare il loro potere con qualsiasi mezzo, a quelli che, con astuzia, sono disposti ad allentare la presa quanto basta per far percepire, che il loro potere è in diminuzione. Abbiamo chiesto che questi oscuri vengano esclusi completamente e subito da ogni tipo di negoziato tra i nostri alleati di terra e i loro stretti collaboratori, relativamente al nuovo sistema finanziario o alla composizione dei nuovi governi, in quanto questi operano per snaturare e ritardare l'attuazione di questi piani. I nostri cugini di Agarta, comprendendo la situazione stanno evitando che le componenti a favore della cabala oscura ostacolino la coalizione formata dai nostri alleati di terra. È essenziale, che i gruppi dedicati alla luce non vengano disturbati dagli interminabili stratagemmi degli oscuri. Il nostro attento monitoraggio ha evidenziato come i collaboratori degli oscuri stiano abilmente minando ed ostacolando le dinamiche interne al gruppo di coloro che stanno per strutturare il nuovo sistema finanziario e governativo, e quindi abbiamo chiesto che venga effettuata una approfondita e attenta verifica di questi gruppi, a livello globale. Ribadiamo questa richiesta con questo messaggio, perché risulta determinante che queste azioni vengano completate nel più breve tempo possibile. La vostra società mondiale è nel mezzo di una grande rivolta, ovunque i servitori sono alla ricerca della libertà da quei padroni tenaci, che utilizzano i metodi degli oscuri per preservare le loro illecite forme di tirannia. Un giusto sentimento, che persegue la libertà e una basilare dignità umana sta aumentando in tutto il pianeta, ed è giusto, che ciò che vi è stato a lungo promesso ora si manifesti, per completare ciò che questi coraggiosi hanno con tanto ardore iniziato. Vi giungano le nostre benedizioni. Noi siamo i vostri maestri ascesi. Molti di voi non sanno chi siamo. Siamo compagni umani, che hanno vissuto molte vite sulla Terra prima che ognuno di noi abbia scoperto il segreto per l'immortalità all'ascensione. Abbiamo quindi deciso che era più importante rimanere qui, per guidare l'umanità verso questo evento meraviglioso, piuttosto che ascendere e diventare una meravigliosa parte dei regni spirituali. Siamo qui per far riscoprire a ciascuno di voi cosa realmente siete un asceso, un essere di luce pienamente consapevole. Abbiamo lavorato con le nostre numerose sacre società per generazioni, nell'intento di realizzare una nuova realtà piena di luce, amore, e prosperità, che è ora sul punto di manifestarsi. I cabalisti oscuri si trovano ora in un angolo dal quale non possono fuggire, e il vostro mondo attende ora la sua trasformazione in quell'entità piena di luce, che abbiamo a lungo immaginato. Sappiamo bene che questa fase finale del salto verso la nuova realtà possa risultare a volte frustrante. Rimanete concentrati nella luce, carissimi, ed osservate il manifestarsi dei miracoli. L'alba di questa nuova era si presenta dirrompente intorno a voi. La potete vedere nel drammatico cambiamento nell'aspetto del Medio Oriente, e mentre cominciano a cambiare gli atteggiamenti nei confronti della madre terra di molte nazioni latino-americane. Allo stesso modo, una rivolta contro lo status quo sta iniziando a prendere forza in molte parti dell'Asia e dell'Africa. Questi primi segnali sono un accenno di ciò che sta per aver luogo nel Pacifico, in Europa e nel Nord America. Saint Germain e la sua fondazione hanno dato il via libera per dare inizio alla distribuzione delle ricchezze maturate, dopo quasi quattro secoli, dal suo fondo mondiale. Queste somme sono veramente sorprendenti. In concomitanza con questo esborso ci sarà un mandato per un cambio di governo, da realizzarsi in modo giudizioso e legale. Questi eventi accadranno contemporaneamente, e cambieranno in modo definitivo la natura stessa della vostra realtà. Allo stato attuale ci troviamo alle soglie di questa nuova era. Il cielo ha comunicato i solenni decreti, che hanno indirizzato una immensa flotta di navi della Federazione Galattica in questo sistema solare, accreditato per un primo contatto con noi. Accogliamo con favore questo intervento divino, e siamo ansiosi di riunirci con i nostri cugini della Terra interiore, che hanno a lungo assistito e protetto noi e le nostre sacre e segrete società. Sono queste società, che costituiscono la solida base per la nuova società orientata alla luce, che sta per essere creata nel nostro mondo. Presto, il regno di Agartha e quello della superficie si congiungeranno, creando una unica società galattica, che in parte migrerà verso Venere e Marte. Sarà questa la nuova nazione stellare, che presto accoglieremo nell'universo dei nostri luoghi benedetti. Oggi abbiamo continuato il nostro viaggio attraverso i cambiamenti, che porteranno al primo contatto e al vostro ritorno alla piena consapevolezza. Siamo felici per l'avvicinarsi del momento per questi incredibili eventi. La nostra flotta e i vostri maestri ascesi sono pronti a trasformare la vostra realtà. Sappiate, carissimi, nel profondo del vostro cuore, che illimitate risorse e l'infinita prosperità del cielo sono davvero vostre. Così sia. Selamat Gaium. Selamat Yah, in siriano siate uno nell'amore, siate nella gioia. Traduzione Gualtiero Costanza 2003